In occasione della giornata internazionale delle donne, la Polizia di Stato, questura di Ragusa, ha realizzato un cortometraggio in collaborazione con gli alunni dell'Istituto Verga. Un gambiano di vent'anni richiedente asilo politico ed ospitato in un centro di accoglienza a Chiaramonte, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Vittoria per spaccio. Dramma della solitudine ad Akato, un anziano di 74 anni è stato trovato morto nella sua abitazione, su segnalazione dei parenti che vivono al nord Italia, i militari sono entrati in casa. In una nota diffusa in quest'ora alla stampa, il secondo circolo del PD di Vittoria fa sapere di essere confluito nel Movimento Sicilia Futura e di sostenere il candidato a Ieglio. In programma domani alla Fiere Maia di Vittoria è la presentazione dell'accordo tra le manifestazioni Agrem e Maia e Verona Fiere, che sarà presente con il Roadshow. Un saluto e ben trovati all'appuntamento con la nostra informazione. In occasione della giornata internazionale delle donne che si celebra oggi, la Polizia di Stato Questura di Ragusa ha realizzato un cortometraggio in collaborazione con gli alunni dell'Istituto Verga di Modica. Il video dal titolo Poliziotta per un giorno racconta l'esperienza di una donna poliziotto che aiuta una vittima di violenza in famiglia. Poliziotta per un giorno, questo è il titolo del cortometraggio realizzato dal Commissariato di Polizia di Modica in occasione della giornata internazionale della donna. Per l'occasione la Polizia di Stato ha realizzato un corto proprio all'interno del Commissariato di Modica coinvolgendo le alunne dell'Istituto Superiore Verga. Attraverso un concorso infatti è stata scelta una studentessa che ha avuto la possibilità di vivere per un giorno l'esperienza di appartenere alla Polizia di Stato. La protagonista del cortometraggio, che per l'occasione indossa la divisa, attraverso il racconto di una vittima si trova ad affrontare la tematica della violenza contro le donne che spesso si consuma nel silenzio delle mura domestiche. Con la realizzazione del cortometraggio la Polizia di Stato ha voluto coinvolgere il mondo dei giovani, facendoli immedesimare nel difficile lavoro che gli operatori di polizia svolgono quotidianamente. Analogamente, attraverso il racconto della vittima, si vuole far comprendere che denunciare tali reati è il primo passo verso la riconquista della serenità e della dignità umana. Il video sarà apprezzato per tutti questa sera al Teatro Garibaldi di Modica e segue la proiezione svolta a Sieri nella scuola modicana. Per l'occasione è stato anche organizzato un incontro con la dirigente del commissariato modicano, Maria Antonetta Malandrino, che ha parlato della violenza sulle donne e si è raccontata agli studenti, ricordando la sua esperienza di dirigente donna. E proseguono le iniziative organizzate in occasione della giornata internazionale della donna, oggi in particolare la consulta alle politiche femminili in collaborazione con le associazioni e i club service di Vittoria, ha inaugurato una mostra con degustazione a cura di donne creative. La mostra è allestita nel ridotto del teatro e chiuderà questa sera alle ore 22. Oggi invece spettacole al Teatro Comunale a cura di talenti vittoriesi, tra cui Michela Abonavita e le sue allieve Danilo Ferro e il coro di Gabriele Artimagnella, Nadia Marino, Fabio Trigilia e molti altri. La cronaca. Un gambiano di 19 anni richiedente asilo politico e ospitate in un centro di accoglienza a Chiaramonte è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Vittoria per spaccio. Il giovane è stato trovato in possesso di 55 grammi di ascisce e vario materiale per il confezionamento della droga. Controlli antidroga a tappeto nella giornata di ieri ad opera dei carabinieri della Compagnia di Vittoria, in particolare a Chiaramonte Gulfi, sono state effettuate numerose perquisizioni personali e domiciliari. L'attività ha riguardato anche lo Sprar Nostra Signora di Gulfi, adibito all'accoglienza dei richiedenti asilo politico. Qui, in stretta collaborazione con la direzione della struttura, i carabinieri hanno sottoposto a perquisizione numerosi ospiti richiedenti asilo. In manette, al termine del servizio, un giovane 19enne originario del Gambia, fatti Ensa, trovato in possesso di un panetto di ascisce di 55 grammi, materiale per il confezionamento e quasi 150 euro in banconote di piccolo taglio ritenute frutto dello spaccio. Sia la droga che il denaro sono stati posti a sequestro penale. Il giovane, condotto in caserma, al termine delle formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari in un immobile che fa parte dello stesso centro Sprar. Qui resterà a disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Ragusa, Monica Monego, dinanzi alla quale dovrà rispondere del reato di spaccio. Ora, al vaio degli inquirenti, la posizione del 19enne per accertare l'eventuale complicità di altri criminali e il canale di approvvigionamento della droga. Tutta la sostanza stupefacente e sequestrata è già stata inviata al laboratorio di sanità pubblica dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa, al fine di stabilirne il principio attivo e il numero di dosi ricavabili. Dramma della solitudine ad Acate. Un anziano di 74 anni è stato trovato morto nella sua abitazione, su segnalazione dei parenti che vivono al nord Italia e che non lo sentivano. Da tempo i carabinieri sono entrati nell'abitazione trovando il corpo ormai mummificato. Secondo il medico legale, l'anziano è morto circa tre mesi fa. Nella mattinata di oggi ad Acate i carabinieri della locale stazione hanno rinvenuto il cadavere mummificato di un 74enne. Su segnalazione al 112 da parte dei familiari dell'uomo residenti nel nord Italia e che non lo sentivano da diverse settimane, i carabinieri sono entrati nell'abitazione dell'anziano ricadente nel centro storico e hanno trovato il cadavere del pensionato 74enne in avanzato stato di mummificazione. Dopo che i militari hanno effettuato i rilievi tecnico-scientifici e hanno sentito parenti e amici per meglio chiarire i dettagli della vicenda, sul posto è intervenuto il medico legale di turno, Carlo Maurizio Spagna, che ha ispezionato il cadavere e ha ricondotto il decesso dell'uomo a causa naturali, avvenuto circa tre mesi fa. La salma, al termine delle operazioni, è stata riconsegnata ai familiari per le esequie, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, Monica Monego. Un DJ di 54 anni, Vittoriese, è stato denunciato dalla polizia per aver minacciato il titolare di un locale pubblico. L'uomo pretendeva, dal titolare del locale dei soldi, quale compenso per aver lavorato in due serate nel dicembre scorso. E' entrata in un locale pubblico del centro storico di Vittoria e pretendeva 300 euro quale compenso dovutogli per aver lavorato come DJ in due serate nello scorso dicembre. L'uomo, 54 anni, Vittoriese, è stato pertanto invitato a tornare a fine serata per discutere con calma del problema, ma è andato subito in escandescenza minacciando il titolare del locale. Sul posto sono quindi arrivati gli agenti al locale commissariato che, in breve, hanno avuto contezza dei fatti e sono intervenuti, intanto facendosi consegnare dal DJ un coltello che aveva proprio prima brandito in aria nel corso delle minacce. A suo dire, lo aveva tirato fuori per difendersi dalle tante persone che lo avevano accerchiato perché volevano buttarlo fuori. La ricostruzione dei fatti ha permesso di accertare che l'uomo aveva prestato la sua opera alla vigilia di Natale e Capodanno. Le serate non erano state, come si dice, proprio un successo, c'erano state anche le mentele e, nonostante gli inviti a cambiare genere musicale, il DJ aveva proseguito con la sua scaletta e i suoi gusti. Ciò aveva irritato gli organizzatori e, alla fine, l'uomo non era stato pagato, tra l'altro non facendosi più vedere, fino all'epilogo molto movimentato di ieri sera. I polizi ottano quindi sedato gli animi e il DJ è stato denunciato per minacce aggravate e porta abusivo di arma. In relazione alla protesta della marineria di Scoglitti per l'insabbiamento del porto, il sindaco di Vittoria Giuseppe Nicosia ha voluto manifestare condivisione e sostegno per una legittima protesta dei pescatori in difficoltà a seguito dell'ennesimo insabbiamento della struttura ricettiva portuale. E dire, ha continuato il sindaco, che abbiamo sollecitato ripetutamente la regione ad intervenire. Torneremo non solo a reiterare l'invito alla regione a provvedere con urgenza, ma anche a sollecitare il genio civile e opere marittime a predisporre in tempi brevi il progetto di escavazione. In una nota diffusa in queste ore, il secondo circolo del PD di Vittoria rende noto di essere confluito nel movimento Sicilia Futura. Obiettivo? Raccogliere attorno al centro-sinistro una vasta area di consenso attorno al candidato Aiello. Il direttivo del secondo circolo PD di Vittoria è constatata l'impossibilità di condividere un progetto comune col PD di Via Castelfinardo, per i noti motivi squisitamente politici ed in metodo, comunica che lo stesso circolo confluirà nel movimento Sicilia Futura, un soggetto politico che guarda al PD e nasce con l'obiettivo di raccogliere attorno al centro-sinistro una vasta area di consenso. Siamo convinti, dicono dal direttivo, che sia la scelta giusta per ricostruire il centro-sinistro a Vittoria lavorando in piena autonomia su temi importanti come la cura del territorio e lo sviluppo economico sostenibile. Sosteniamo che l'onorevole Aiello sia l'unico che si pone l'obiettivo di ricostruire un rapporto con i cittadini in un ambito politico del centro-sinistra, che è attualmente scomparso dalla scena politica cittadina. Riteniamo inoltre che Aiello sia la personale giusta per esperienza, competenza e impegno ad assumere il difficile ruolo di primo cittadino. Gli appaiono altresi insostenibili, altre ipotesi politiche indistinte e confuse che mettono insieme a destra e a sinistra per semplici calcoli elettoralistici. Pertanto, concludo la nota del direttivo del secondo circolo PD, la lista Sicilia Futura farà parte della coalizione Aiello Sindaco. E in programma domani alla Fiera Emaia di Vittoria la presentazione dell'accordo tra le manifestazioni Agrem e Maia e Verona Fiere che sarà presente col Roadshow. Un evento che sancisce l'avvio di quella che sarà una proficua collaborazione fra i due enti fieristici. Domani presso la città dell'Emaia la presentazione dell'accordo tra Agrem e Fruitveg System e Verona Fiere che sarà tra l'altro anche presente con la Roadshow. Si tratta delle più importanti manifestazioni nazionali del comparto ortofrutticolo in programma rispettivamente dal 21 al 24 aprile a Vittoria e dal 4 al 6 maggio a Verona. Le offerte espositive ad ampio raggio, i dibattiti, gli incontri tecnici, i convegni e le novità sulle nuove piattaforme logistiche fanno di Agrem e Verona Fiere eventi ad alto impiatto mediatico che anticipano l'esigenza al mercato, creano relazioni tra espositori e buyer e coinvolgono gli operatori grazie a dinamicità e interattività. L'evento di domani sancisce in pratica l'avvio di quella che sarà una proficua collaborazione fra i due enti fieristici ribadendo il valore riconosciuto alla città di Vittoria e alle sue produzioni di eccellenza. Un evento quindi di caratura internazionale visto che porterà la Fiere Maia e il territorio ovviamente alla fascia trasformata a svolgere il ruolo di protagonista in vista delle importanti manifestazioni del comparto ortofrutticolo. I lavori della Roadshow saranno condotti da Michele Nangano mentre le conclusioni sono affidate al direttore Maia Silvio Balloni che presenterà per l'occasione il programma di Agrem 2016. Il Movimento dei Forconi interviene sulla pignorabilità della casa di cui si sta discutendo in Parlamento. Ci vogliono fatti e non manfrine politiche affermano perché 7 o 18 rate non cambia nulla. In questi giorni si sta assistendo ad un duro e falso sconto in Parlamento sulla questione della pignorabilità della casa secondo le direttive europee che prevedono che la propria abitazione finisca direttamente nelle mani delle banche dopo solo 7 rate non pagate Per il Movimento dei Forconi si tratta di un atto gravissimo mascherato ignobilmente con parole come agevolazione nei mutui e tutela dei diritti Inoltre per i Forconi è ignobile assurdo che il PD voglia far passare un decreto di questo tipo Da parte sua invece il Movimento 5 Stelle proseguono i Forconi e ha messo in scena un gran teatrino dove armati di cartelle con proteste mediatiche hanno proposto di portare a 18 le rate il cui mancato pagamento causa la perdita dell'immobile I ignobili anche questo dicono i Forconi perché si dovrebbe invece lottare uniti per l'impignorabilità della prima casa e per la tutela dei cittadini senza se e senza ma invece le leggi vanno avanti nonostante i teatrini pentastellati Per tanti i Forconi sempre in prima linea in questa difesa hanno manifestato anche a fronte di denunce per fare desistere i compratori dalle case all'asta per difendere chi perde immobili e aziende e invece di patteggiare su quante rate del mutuo insolute siano necessarie per perdere tutto concludono i Forconi si pensa invece a fare fronte comune anche con azioni concrete verso un governo decisamente impazzito quanto la povera gente I comuni blei che lo vorranno potranno soffrire di un infopoint all'interno dell'aeroporto di Comise il tutto servirà a migliorare l'offerta turistica del nostro territorio I comuni della provincia eblea che lo desiderano potranno non soffrire di un infopoint all'interno dell'aeroporto La Torre C'è ciò sulla base l'accordo esistente tra comune di Comise e Soaco per l'accessione a favore dell'ente di Piazza Fontediana di un locale in subconcessione gratuita posto all'interno dello scalo da destinare appunto di informazione per la promozione turistica del territorio E ieri il sindaco Spetaro, l'assessorello sviluppo economico Sandra Sanfilippo e il dirigente dell'area 1 del comune hanno incontrato gli amministratori di alcuni comuni del Ragusano per renderli edotti di queste importanti opportunità in particolare sono intervenuti l'assessorello risorse economiche del comune di Raguse, il delegato del sindaco di Ispica del sindaco di Monte Rosso Almo, Chiara Montegulfi Santa Croce Chiamarina e l'assessorello al turismo del comune di Modica Si tratta, ha dichiarato il sindaco Filippo Spetaro di un'importante opportunità che tutto il territorio ibleo può e deve sfruttare e come ho sempre sostenuto nell'ottica della condivisione e della collaborazione i comuni dell'ex provincia possono intanto svolgere in aeroporto servizio di informazione, accoglienza e assistenza turistica finalizzata alla valorizzazione e promozione dei loro territori e, a mio avviso, rimarca Spetaro un modo per migliorare e completare l'offerta turistica della nostra terra a maggior ragione ora che i dati dei flussi passeggeri del nostro aeroscalo sono molto positivi e in costante aumento l'assessore Sanfilippo, che in presidenza ha illustrato gli amministratori presenti le finalità dell'incontro ha presi accolto le criticità rilevate dai presenti che possono riassumersi nella mancanza di tratti di navetta di collegamento tra i comuni interessati e l'aeroscalo e su questo punto lo stesso assessore ha affermato che interverrà Riprendiamo la nostra informazione partendo da Scoglitti ieri infatti c'è stata un'iniziativa alla scuola Sciascia relativamente al pescato di Sicilia e alla dieta mediterranea si è parlato infatti dell'importanza del pesce e si è insegnato ai ragazzi a nutrirsi in modo consapevole A scuola e di dieta mediterranea ieri presso la scuola Sciascia di Scoglitti iniziativa realizzata in concomitanza con la protesta della marineria costetta a lottare contro l'insabbiamento del porto si tratta nello specifico di un progetto per rilanciare l'economia del pescato ma anche per fare comprendere ai più giovani l'importanza dell'alimentazione mediterranea un vero e proprio tour della cultura dell'alimentazione in alcuni borghi marinari siciliani per valorizzare appunto le frazioni puntando l'attenzione sulla dieta mediterranea Mi è stata data questa bella occasione per collaborare con un progetto regionale Alimentiamo la città questo progetto è un progetto veramente concreto dove si prefigge tre obiettivi rilanciare l'economia della nostra zona educare i consumatori a delle buone scelte educare i bambini a un buon consumo del cibo rispettoso della salute Leggevo anche che ci sarà un incontro con la comunità penso che è questa comunità? Sì, è invitata tutta la comunità del territorio per far comprendere che cosa è importante e la dieta mediterranea quali sono gli alimenti che vanno utilizzati per il nostro benessere fisico e anche diciamo pure spirituale Poi voi avete il pesce, il buon pesce Quindi in modo particolare è stata coinvolta la scuola di Scoglitti grazie al dirigente del Dipartimento Pesca il dottor Cataldi che ha voluto coinvolgerci in questa meravigliosa iniziativa perché Scoglitti ha un forte legame con il mare E parliamo ora di strade provinciali ed in particolare delle condizioni in cui versano alcune senza illuminazione altre con grosse buche Vediamo il servizio Il mancato trasferimento di fondi dalla regione al libero consorzio comunale sta determinando situazioni paradossale incresciose Lo sostengono dal Movimento Insieme dove puntano l'indice sulle condizioni delle strade provinciali che da Marina di Ragusa portano a Ragusa, Dona Lucata e nella zona di Fontana Nuova Qui la pubblica illuminazione è praticamente spenta per cui siamo al disastro una situazione dicono destinata a causare problemi legati alla sicurezza per quanto riguarda la viabilità per non parlare di quelli concernenti l'ordine pubblico se si pensa che lungo queste arterie stadali sono numerose le abitazioni esistenti sempre che tutto questo sia dovuto a dei debiti dell'ex provincia con la società elettrica e per questo motivo è stato deciso gradualmente di spegnere gli impianti di pubblica illuminazione Per il Movimento Insieme si sia in pratica confrontando con un nuovo medioevo una vicenda di poco allarmante e preoccupante ed è mai possibile si credono irresponsabili del Movimento che i nostri parlamentari non abbiano saputo prevedere quello che poteva accadere e non abbiano sentito neanche l'esigenza di mobilitarsi magari occupando l'Aula per ottenere il dovuto e quindi assicurare i servizi di primaria utilità per la collettività che li ha eletti e cosa ci vanno a fare allora i nostri depositi a Palermo se non tutelano le esigenze della cittadinanza Iblea l'auspicio adesso da parte d'Insieme è che intervenga il prefetto perché quanto sta accadendo è inaccettabile E ora la pagina sportiva è stato un weekend perfetto per l'Ardenz Comiso le due formazioni casmenee rispettivamente in Serie C e in Serie D hanno vinto i derby contro il Chiaramonte e il Camarina Vittoria Fine settimana perfetto per le squadre dell'Ardenz Comiso per le due formazioni la Egliacoli in C e la Fratelli di Pasquale in Serie D due secchi 3-0 all'avversario in altrettanti derby nelle rispettive categorie nel primo caso le ragazze di Piero Lombardo si sono aggiudicati tre punti in palio superando il Chiaramonte-Gulfi con dei parziali alquanto eloquenti 25-10, 25-15, 25-14 poco da dire sull'incontro dal punto di vista tecnico troppo evidente il divario fra le due formazioni testimonato anche dalla differenza di ben 25 punti in classifica Guaccio Lombardo per oltre due set ha dato quindi spazio alle giovani ottimo l'impatto alla gara e pregevoli giocate soprattutto per Marta Occhipinti palleggiatrice classe 2001 praticamente all'esordio quest'anno in C dopo una prima parte di campionato giocata con ottimi numeri in Serie D anche Giulio Iozzia e Fabio Colombo hanno fatto la propria parte la Agriacono con 37 punti all'attivo continua quindi ad essere in piena corsa per la disputa dei play-off mantenendo la seconda posizione in classifica del Girone C del massimo campionato dietro l'Olimpia Siracusa adesso a 49 punti altre autorevoli vittorie anche per la fratelli di Pasquale in Serie D la formazione Under-16 di Marchiciana con dei parziali che oseremo dire mortificanti ha battuto il Camarina Vittorio nell'alto derby della settimana adesso per le atlete bianco-rosse la possibilità di raggiungere la promozione in Serie C si fa sempre più concreta infatti se per l'Aurora Siracusa il salto di categoria ormai scontato per la formazione casmenea secondo accontentate punti diventa una possibilità concreta da non lasciarsi sfuggire siamo in chiusura ma prima rivediamo insieme i fatti in primo piano in occasione della giornata internazionale delle donne la Polizia di Stato quest'ora di Ragusa ha realizzato un cortometraggio in collaborazione con gli alunni dell'Istituto Verga il video dal titolo Poliziotta per un giorno racconta l'esperienza di una donna poliziotto scelta proprio fra le alunne modicane per vivere un giorno in divisa che aiuta un'altra donna vittima di violenza fra le mura domestiche un gambiano di 20 anni richiedente asilo politico ed ospitato in un centro di accoglienza a Chiaramonte è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Vittoria per spaccio il giovane è stato trovato in possesso di 55 grammi di hashish materiale vario per il confezionamento della droga e 150 euro in banconote di piccolo taglio ritenute frutto dello spaccio sia la droga che il denaro sono stati sequestrati dramma della solitudine ad Akate un anziano di 74 anni è stato trovato morto nella sua abitazione su segnalazione dei parenti che vivono al nord Italia i militari sono entrati in casa qui la macabra scoperta l'uomo era morto da circa 3 mesi e il suo cadavere era in avanzato stato di mummificazione per il medico la morte è avvenuta per cause naturali la salme è stata quindi già restituita ai familiari per i funerali in una nota diffusa in quest'ora alla stampa il secondo circolo del PD di Vittoria fa sapere di essere confluito nel movimento Sicilia Futura e di sostenere il candidato Aiello ritenendo di non poter avviare un progetto comune con l'altro PD gli ex democratici hanno deciso di raccogliere attorno al centro-sinistra una vasta area di consenso che intendono far confluire attorno al candidato sindaco Aiello e in programma domani alla Fiere Maia di Vittoria la presentazione dell'accordo tra le manifestazioni Agrem e Maia e Verona Fiere che sarà presente con il Roadshow le due più importanti manifestazioni nazionali del comparto ortofrutticolo hanno quindi deciso di avviare una proficua collaborazione durante l'evento di domani poi sarà illustrato qualche dettaglio sulla prossima Agrem Anche per oggi è tutto grazie per essere stati con noi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti